Secondo voi, ma non pensate alle macchine, secondo voi quale sarebbe la strada giusta? Destra o sinistra? La salita o la discesa? Alla chiesa di San Basilio, lei lo sa signora, non può parlare. No, no, ma per l'orientamento o la salita? Allora, ricordatevi, è la salita, non la discesa, vi ho detto che è tutto salita. Abbiamo ancora altri due chilometri e mezzo di salitina? Abbiamo fatto 3.645 passi. Abbiamo fatto, Federico? Abbiamo fatto 3.658 passi. Ecco, sì, queste sono le mandorle buone che si possono assaggiare. Ne prendiamole. Eh, adesso è tardo. Odia le mandorle. Penso che siano un po' aride, secche, non lo so. Ecco. Ecco, una cosa molto interessante sono anche i nostri moretti a secco, è una qualcosa di tipico della Sardegna, i campi venivano chiusi con i moretti. Siamo circondati da queste lecci, sugherette, alberi anche secolari. Lì sulla destra, guarda un attimino che alberi. Non manca la macchia mediterranea, il mirto, il corbezzolo, i rovi, poi a dismisura, che regalano le more d'estate. Ecco, questo è un angoletto molto bello per chi cammina. Siamo proprio immersi nella natura, mira. È fantastico qua. Sì, molto bello. Qui non siamo in pianura come da voi, eh? Qua è per salire a Pramonti. È tosta.